Valmatic dal 1980 nel settore packaging progetta e produce innovativi contenitori monodose e fiale. L'azienda emiliana si distingue per la propria creatività. In occasione di Cosmoprof 2019 propone due nuovi concept monodose utilizzabili per maschere viso. Il cliente finale potrà utilizzare queste nuove forme senza spese aggiuntive solamente personalizzando con le grafiche e il packaging. Questa edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna rappresenta per Valmatic la settima partecipazione. Sempre di più l'azienda vede consolidare i propri clienti per il servizio conto terzi e per la vendita di macchine Form Fill Seal. Infatti Valmatic oltre ad avere nove reparti di produzione di monodose per i settori cosmetico, food e chimico vende macchine in tutto il mondo. Le macchine Valmatic per la produzione di monodose hanno differenti capacità produttive, sono facili da utilizzare e con assistenza remota in qualsiasi momento. I monodose Valmatic hanno una capacità da 1 a 100 ml, possono essere squeezable con fondo piatto stand up o con apertura pelabile. Il film plastico utilizzato viene fino all'80% dalle bottiglie dell'acqua in pet e una volta utilizzati i monodose si differenziano nella plastica e possono essere riciclati. Valmatic ha più di 100 stampi esistenti che offre ai propri clienti senza costi aggiuntivi. Un marketing creativo combinato ad un'attenzione al cliente costante fanno di Valmatic un valido partner per la realizzazione di progetti innovativi e funzionali, competitivi in ambito mondiale.